Di che cosa ci siamo accorti adesso? Adesso ci siamo accorti di una cosa impressionante che è l'origine della nascita del governo Monti, che c'è stato un momento in cui dopo un'estate in cui la salita dello spread ha simbolgiato il fatto che non si capiva più niente, che potevamo rotolare veramente a destini greci, la politica si è tirata da parte, sia quelli che avevano governato il centrodestra, ma straordinariamente cosa su cui non si è abbastanza riflettuto è stato l'unico paese in Europa, perché negli altri paesi si è detto spesso Portogallo, Irlanda, si è votato, anche in Grecia si vota, da noi il centrosinistra, la cosa più straordinaria, il centrosinistra è che tutti i sondaggi davano avanti di 10 punti al soccommento, il centrodestra ha detto che non si vota, è l'unico paese d'Europa, ripeto, dove si è fatta questa scelta, bene, per fortuna, però vorrà dire qualcosa, si sono tirati indietro tutti, quelli che avevano governato e quelli che si candidavano a governare, segno di una mancanza di fiducia nelle proprie ricette, loro stessi, centrodestra e centrodestra, magari si potesse non votare nel 2013, saltare il turno e vedo che sui giornali si potrebbe allungare la presidenza napoletana di due anni, sospendere le elezioni, vedere, è ovvio che si tratta di stupidaggini, vi prego, quando ne chiacchierate non dategli retta a chi dicono queste cose, sono cose che non stanno né in cielo e in terra, vi pare, sono regolate da Costituzioni, sono semplicemente il segnale di una resa, una confessione quasi esplicita, ma direi esplicita del fatto che non ci credono, non credono in loro stessi, non credono in quello che hanno da dire e Monti, per fortuna, l'abbiamo già detto in altri dibatti e in altre occasioni, è entrato a fare da tappo e a dare una correzione, ma io sono fra quelli che pensano che la ripresa può essere solo una ripresa coraggiosa, nelle misure economiche da prendere, ma politica, cioè fatta col consenso e col coinvolgimento dei cittadini.